Se ne deve andare. Se non se ne va, chiamo la sicurezza. Che cosa ci fai qui? Eh? Devo parlare con il ragazzino, ma qualche idiota ha deciso che non può ricevere visitatori. Sì, l'ho deciso io. Non sarà più disturbato oggi. Naya Turin. E tu che ci fai qui? Ci vorrà poco. Parlerò io con lui. Va bene. Ciao, Magnus. Scusa se ti disturbiamo. Noi due siamo i poliziotti. Vorremmo parlare un po' con te, se sei d'accordo. Magnus, posso chiederti di spegnerlo un attimo? Quello non è l'esercito maledetto. Giochi molto bene. Magnus, non potresti metterlo un momento in pausa? Ho una missione per te, come nel gioco, e per compierla ho bisogno del tuo aiuto. Da solo non ci riesco. Ti va di farlo? Guarda, Magnus. Ho qui delle fotografie. Avrai cinque secondi di tempo per guardarle e per dirmi se vedi qualcosa che sembra diverso dal solito. Vuoi farlo? È una missione dura. Devi usare le tue abilità. Iniziamo da questa. Lumicare l'esercito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, è in cielo.